ciao bimbi questa sera c'è una storia speciale perché una di noi che ha 11 anni ma non vuole che io dica il suo nome ha inventato quando era più piccola insieme al suo papà una storia e allora l'ha voluta trascrivere e mandarcela condividerla con noi e quindi la ringraziamo sentite che bella c'era una volta un signore un signore che aveva dei capelli neri e belli tra questi capelli ce n'era uno bellissimo splendente affascinante ma aveva molti difetti uno dei quali era vantarsi e abbassare l'autostima agli altri capelli io sono il più bello di tutti tra i tanti capelli di quest'uomo io sono il più affascinante oppure siete sfortunati a non essere così belli e splendenti come me e beh io sono il più bello o voi poveracce guardatevi guardatevi come siete brutti mi dovreste ammirare mi dovreste lodare oppure dovreste vergognarvi di non essere belli come me vi dovreste nascondere insomma continuava a vantarsi e a insultare gli altri che cercavano di difendersi di farlo ragionare ma inutilmente un giorno dopo essersi vantato per l'ennesima volta sentì da dietro un capello che gli toccava le spalle e gli diceva con molta calma vantandoti non risolverai mai niente è vero sei bello ma non continuare a ripeterlo però smettendo di vantarti di essere sgarbato forse riuscirai a farti perdonare il capello vanitoso non gli diede ascolto e continuò a vantarsi un giorno dopo tanto tempo il capello vanitoso venne staccato via da una mano forse quella di un umano che diceva questo capello è bellissimo guarda che fascino tac il capello vanitoso cominciò a dimenarsi ma inutilmente gli altri capelli in coro gli gridarono tutta quella bellezza ha finito con rovinarti bella è piaciuta ringraziamo la nostra chi ha voluto condividere con noi la sua storia grazie cosa ci fa pensare questa storia meravigliosa ci fa pensare che è bello essere belli essere belli è come essere una luce che effonde la sua luminosità ora la luce non è che sta lì continuamente a dire ma come sono luminosa ma come sono bella e no la lampada accesa illumina e basta la luce si diffonde e basta è contenta di effondersi per illuminare così è una bellezza al posto giusto illumina intorno senza ripiegarsi su se stessa invece c'è una bellezza che si ripiega su se stessa continua a guardarsi l'ombelico a dire oh come sono bello come sono bello queste sono insopportabili no una bellezza così diventa come avete presente il buco nero i buchi neri dello spazio no che assorbono l'energia qualunque materia gli capiti intorno se la risucchiano ecco di fronte a questi vanitosi uno si sente sempre un po risucchiare si sente mancare lo spazio vita esiste solo quello lì che dice che bello che bravo ecco chiediamo di non essere dei buchi neri che rompono l'anima tutti quanti e assorbono l'energia degli altri chiediamo di essere come la luce chi è come la luce è bello anche quando non è tanto bello però c'è una bellezza ricordate abbiamo parlato una volta con un altro racconto della bellezza di madre teresa che non era uno spettacolo non era bionda con gli occhi azzurri una sventolona ma era proprio bella perché di quella bellezza di una luce che si irradia cosa hai bisogno d'altro no questa è la bellezza che cerchiamo bimbi buonanotte